Nel mondo scuole, tempo di iscrizioni. Arrivano dal Ministero dell'Istruzione dettagli e le scadenze per le iscrizioni del prossimo anno scolastico 2023-2024. Si dovrà procedere online dalle 8 del mattino del 9 gennaio alle 20 della sera del 30 gennaio. Tutte le domande di iscrizione per le scuole medie e per le scuole superiori si faranno online attraverso il servizio di iscrizione disponibile sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito Per accedere è necessario utilizzare le credenziali del sistema pubblico di identità digitale, ovvero lo SPID oppure la carta di identità elettronica CIE o ancora l'Electronic Identification, Authentication and Signature, ovvero l'AIDAS. L'abilitazione al servizio sarà disponibile dal 19 dicembre ed il Ministero, come ogni anno, metterà famiglie e studenti nella condizione di potersi iscrivere anche attraverso una scelta attenta che potranno effettuarla con l'app Scuola in Chiaro, una piattaforma di orientamento utile per cercare informazioni sulle scuole del territorio di riferimento e che raccoglie i profili di tutti gli istituti scolastici, anche relativamente agli orari e alle performance degli ex studenti con delle vere e proprie recensioni di riferimento grazie alla Scuola in Chiaro sia gli studenti che le famiglie potranno così confrontare scuole ed accedere alle informazioni come i risultati scolastici, i docenti, i servizi, tra cui quelli web e gli orari delle strutture scolastiche.